Ciao, sono Mike Zillo di Amica Borsa e questo è il terzo video su Brave Browser. In questo video vado a illustrare come funzionano gli annunci pubblicitari a pagamento fatti da Brave, come donare i token ricevuti gratis, quindi i bat token ricevuti tramite le azze pubblicitarie e infine qua a schermata trovi già un motore di ricerca molto interessante, si chiama PreSearch ed è un motore di ricerca che ti paga per effettuare delle ricerche. Ma di questo troverai delle informazioni nel link che troverai qua sotto. Andiamo adesso a vedere come funziona il Brave Browser, andiamo ovviamente sulla solita schermata e all'interno delle impostazioni del Brave Browser, qua sono ovviamente la cellulare, e andiamo sulle impostazioni delle ads. Vediamo che abbiamo 0.6 bat a disposizione e la data del prossimo pagamento è il 5 dicembre. Ci siamo presi un po' di tempo per fare questo video per illustrare proprio i cambiamenti nel tempo. In questo caso posso già fare rivendica. Qua siamo al 6 di dicembre e quindi ho a disposizione le mie rewards. Ho cliccato su rivendica, ci clicco un'altra volta ed ecco qua il premio che ho ricevuto, 0.1 bat. Vedi infatti che il bilancio si è aggiornato, l'è diventato 20.1 bat. Torniamo nella schermata iniziale. Clicchiamo ancora sull'icona del bat token, del Brave Browser, e siamo infatti a gennaio. Vedi che 1.1 bat sono quelli che abbiamo guadagnato nel mese di gennaio dagli annunci. Ed ecco qua, ho ricevuto i miei 1.1 bat token per le pubblicità guardate a gennaio. Infatti il bilancio si è aggiornato e la 20.1 è passato a 21.3. Non stiamo fregando annunci pubblicitarie, è semplicemente una questione di decimali. Ecco qua, in diretta, guardalo. Hai visto l'annuncio lì in alto? Un nuovo annuncio pubblicitario è arrivato. Ci ho cliccato. In questo momento andiamo a vedere quanti annunci pubblicitari sono stati visualizzati questo mese. E a schermata Magia vedrai che le notifiche degli annunci ricevuti questo mese sono 1. Il prossimo pagamento verrà effettuato il 5 di febbraio. Vediamo come donare ancora una volta i token ottenuti da Brave Browser. Clicchi, vai sul sito a cui vuoi donare la tua mancia, il tuo tip. Clicchi sul simbolo del Brave Browser. Selezioni la donazione che vuoi fare, in questo caso 10 bat, e poi invia. Grazie, hai appena inviato una mancia di 10 bat ad Amica Borsa. Quindi ovviamente noi doniamo tutti i token ad Amica Borsa per ringraziare un po' gli editori dei contenuti che vanno a produrre. Ed ecco qua un'altra donazione di 10 bat. Siamo passati da 21.3 a 11.3 a 1.3. Adesso doniamo l'ultimo bat e vedremo il bilancio, il balance, che andrà ancora ad aggiornarsi. 0.5 bat. Quindi a meno di qualche arrotondamento insomma che viene fatto, noi abbiamo ancora residui 0.5 bat, che sono lì sotto della soglia donabile, quindi non sono ancora donabili. Qua siamo da desktop, quindi a destra vediamo il widget che ci dà un po' il resoconto di quelli che sono i bat guadagnati, i bat pending, quelli che devono ancora essere pagati. Quindi andiamo nelle impostazioni e vediamo il saldo, quello che deve essere ancora pagato, quindi il saldo al suo speso. Impostiamo gli annunci pubblicitari su 5 ads per ora, perché di default sono 2, e mettendone 5 per ora ottimizziamo, massimizziamo il numero di pubblicità che sono a disposizione. Per questo video è tutto, grazie dell'attenzione, grazie delle vostre donazioni e ci vediamo alla prossima puntata.